Che parte del corpo, Ilari? Posso scegliere io? E il naso? No, posso scegliere io? Cosa, ti? A costo di farmi linciare dagli autori? I capezzoli! I... Però scusa, dicendogli così, hai detto un maschio. Eh? Ti sei bruciato un 50% di possibilità, perché... Ho detto il naso io, il naso. Il naso, il naso, il naso, il naso. Eh. Il naso, allora, vieni leggermente più in avanti. Aspetta, perché ho toccato dei piedi. E fa niente, il problema è suo, vai tranquillo. Com'è? Di cosa sa? Solo il naso, eh, solo il naso. Gian Maria! Sei sicuro? Proviamo con un'altra parte del corpo. Allora, le gambe, le gambe. No, no, le spalle, forse, le spalle. Le spalle, dai. Vai, a scendere. Secondo me con le gambe si arriva, ragazzi. La voce, la voce non si può sentire. Proviamo con le spalle. E poi lo puoi annusare, lo puoi annusare, direi. Anche annusare adesso. Annusagli l'ascella. Eh, bravo. Vai, più vicino. Annusagli l'ascella, l'ascella. È un indizio importante. No. Non suggerire. No. Non suggerire. No. Iè? No, questo è Fabio Elisei. Ha suggerito. Avevo l'u! Iè, io ho suggerito. Ha suggerito. Ha suggerito. Ha suggerito. Ciao!